Il mondo è cambiato. E non si può tornare indietro. Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Ho visto morire queste persone. Continuo a dire a tutti di andare avanti. Alcuni lo fanno, ma noi no. Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci. lo faremo. A qualunque costo. A qualunque costo. A qualunque costo. A qualunque costo. Mi piace questa qui. Grazie a tutti.